Per vivere abbiamo bisogno di essere fiduciosi nella vita e coraggiosi per affrontarla. La speranza cristiana, la fede cristiana è quella che ci dice che c'è un movimento, c'è un buonizzante amio e dunque i passi che facciamo hanno un senso, hanno un sapore che possiamo perforzarlo. E qui c'è uno che ci sta accanto, il Signore di sotto, che ci fa da molto la cuore, da sostegno. Questa è la speranza. La guerra è tornata ad essere rivalutata in questo periodo, dobbiamo ritornare all'ospedale. C'è troppa voglia di guerra, c'è troppa soffezione nella guerra. Lavorare per la pace significa rigenerare speranza e felicità e avere un sguardo positivo, o più vista o più sicuro, positivo, perché tutto lo va a costruire. Credere invece che la guerra sia l'unica soluzione è un modo rinutante di loro. Credere invece che la guerra sia l'unica soluzione è un modo rinutante di loro. Grazie. Grazie a tutti.